Il quinto e ultimo concorrente di oggi sarà Yusiki, di nazionalità e cittadinanza cinese di 23 anni. Eseguire i seguenti brani in quest'ordine. Grave fuga dalla seconda sonata in da minore di John Sebastian Bach. Il concerto in da maggiore KV 219 fia un movimento in cadenza di Joachim e di Wolfgang Amadeus Mozart. In seguito le variazioni a derivitum, adagio sostenuto e adagio di zoro fuori di pizza. Per voi finire con lo studio capriccio numero 4 della prova 25 di Camillo Sivori. Ricordo che le prove e i miei attori si concludono questa sera. A seguito ci sarà un maggior intervallo per permettere ai pianisti di provare con i pianisti accompagnatori. Le semifinali si terranno a partire da martedì dalle 15.30 per poi continuare alle 20.30 e concludersi il mercoledì alle 10, 15.30 e 20.30. Grazie. 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 Grazie.